Tre motivi per venire al Middle East Now? Sicuramente perché non è solo un festival di cinema, è un festival a tutto tondo in cui si può fare esperienza, un viaggio nel Medio Oriente appunto anche attraverso la fotografia, l'arte, i dibattiti, il cibo per citare una seconda ragione, una bellissima mostra fotografica che presentiamo in questa edizione Saudi Tales of Love, questo è il titolo, ed è un progetto fotografico di una giovane fotografa saudita che racconta storie di donne alle prese con matrimoni complicati, divorzi, relazioni sentimentali difficili e sono donne che hanno fatto scelte coraggiose in Arabia Saudita, che è uno dei paesi più chiusi al mondo è un progetto che nasce da una storia personale della fotografa che si è sposata a 17 anni con un matrimonio combinato e poi ha avuto due figli e dopo 10 anni ha deciso di divorziare e ora, dopo questa esperienza personale, è una fotografa di matrimoni famosissima in Arabia Saudita quindi pensate il paradosso e con questo progetto è un progetto in cui si riconcilia con se stessa e racconta queste donne davvero coraggiose. La faremo, inaugurerà sabato 8 aprile alla Fondazione Marangoni Un altro motivo per partecipare al festival è sicuramente un'immersione nella cucina contemporanea al Medio Oriente. Avremo tra gli ospiti speciali Chef Juma, Philip Juma, che è uno chef di origine irachene basato a Londra, è il fondatore del progetto Juma Kitchen, che è un progetto di ristoranti pop-up a Londra in cui lui porta la cucina irachena. Lui si definisce uno chef in missione la sua missione è quella di raccontare, di far vedere alla gente che dirà che qualcosa di più di una guerra ha anche una cucina ricchissima, è una cucina che ha i piatti forti della cucina medio orientale con qualche influenza anche indiana e Chef Juma sarà protagonista di un corso di cucina sabato 8 aprile alla Scuola d'Arte Culinaria Cordon Bleu e in più farà una speciale cena Iraqi pop-up dinner da ditta artigianale in via dello sprone venerdì 7.